Per il cenone di Natale gli italiani spenderanno 2,9 miliardi di euro, 400 milioni in più dello scorso anno e 200 milioni in più del Natale pre-Covid. L'impennata della spesa è determinata però non dai maggiori consumi ma dagli aumenti generalizzati dei prezzi. Salgono dell'8% le tredicesime dai 45,7 miliardi dello scorso anno ai 50 miliardi di quest'anno grazie al miglior andamento dell'occupazione, al minore impatto della CIG, ma le retribuzioni sono erose dall'andamento inflattivo che è stato alto tutto l'anno e che secondo lo studio Censys Confo Cooperative è costato 100 miliardi di potere d'acquisto. Il trend dice che primeggiano le spese personali, poi i regali per i bambini preceduti però dagli ingredienti per il cenone, primeggiano i regali per amici e conoscenti, resta invariata invece la cifra che ogni italiano stanzierà per i regali apparenti più stretti. A Napoli si conferma il trend nazionale con mercatini rionali affollati da persone in cerca dell'offerta più conveniente sia sul cibo che sul vestiario. Ai nostri microfoni le impressioni di commercianti e cittadini. Quest'anno la gente spende per la tavola o per i regali secondo lei? Io penso che non è per la tavola né per i regali, che stanno dare una sorta, stanno accise, stanno respirate, specialmente ma che allevano pure i regali dei cittadini, è finita. I prezzi sono sempre uguali però giustamente la gente divide tra tavola e soprattutto per i regali per i bambini. Penso per la tavola, penso proprio per la tavola. Come sta andando quest'anno il mercato? Non c'è male, pensierini economici. La gente spende pochissimo quanto mai, sia per il mangiare, sia per i regali, c'è un po' di crisi. I napoletani tendenzialmente replicano di anni e hanno la tradizione natalizia. Noi siamo con loro, al di là della condizione che si è creata negli ultimi tempi di ristrettezza, perché noi siamo un'attività di mercatino da sempre e di conseguenza lavoriamo e attingiamo nei nostri fondi da pensionati e operai. Devo essere sincera, metà in metà. I regali di mio figlio, sicuramente. Abbiamo speso di più per tutto, perché ha aumentato tutto. A Pasqua mangio il capitone e queste cose qui e a Natale mangio le cose di Pasqua, quindi si risparmia perché quelle cose lì costano di meno.